Con lo spoglio dei voti del pallottaggio si è chiusa l'esperienza delle primarie del centro-sinistra che ha visto un vincitore, l'attuale segretario del PD Pierluigi Bersani, e uno sconfitto, Matteo Renzi. Al primo turno le Marche avevano sorpreso risultando una delle tre regioni d'Italia, insieme a Toscana e Umbria, a vedere sconfitto Bersani. Al pallottaggio nessuna sorpresa con Renzi superato di 9 punti percentuali dal segretario del PD. Molto soddisfatto Palmiro Ucchielli, segretario regionale del Partito Democratico e fervente sostenitore di Bersani. Una vittoria netta, oggi si tratta di incominciare a lavorare insieme, siccome io faccio la società del partito ho il compito di utilizzare le migliori energie, sia chi ha sostenuto la tesi di Bersani, sia chi ha sostenuto la tesi di Renzi o quelli di Vendola, o quelli di Puppato, o quelli di Tabacci. Insomma, vinte le primarie bisogna vincere le elezioni. E a proposito di elezioni Ucchielli, sostiene che queste primarie di coalizione sono state per il PD una sorta di riscaldamento per le eminenti elezioni politiche, che il centrosinistra punta a vincere proponendo una coalizione che va da SEL all'Udc. È stato premiato Bersani perché ha avuto questa lungimiranza, questa coerenza e il messaggio a SEL è evidente, che è un messaggio di una coalizione che vuole governare questo territorio, rafforzare le alleanze che abbiamo costruito e averli in un'esperienza di governo insieme a noi. Il segretario ha anche dichiarato a proposito dell'introduzione delle primarie anche per i parlamentari che ciò è auspicabile e che il PD lavorerà per la loro introduzione, anche se per il momento nulla di definitivo è stato deciso.